Ciao a tutti ragazzi, finalmente siamo arrivati ai 15.000 iscritti e vi ringrazio di cuore, sono veramente molto emozionata è passato solo poco più di un anno dall'apertura del mio canale e non sapete quanto amore mi avete dato con tutti i commenti dolci che mi avete scritto vi voglio un mondo di bene e per ringraziarvi ho chiamato alcuni di voi e ho fatto anche un nuovo trailer per il mio canale prima di farvi vedere le telefonate vi faccio vedere il trailer ed eccolo qua Ciao a tutti 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 io sono Sofia e questo è il mio canale Ciao a tutti ecco qui spero tantissimo che vi sia piaciuto questo mio nuovo trailer e comunque adesso possiamo iniziare con le chiamate speriamo adesso pronto? pronto? pronto ciao sono quella che abita a fianco a te a mia madre servirebbe un po' di zucchero posso venirlo a prendere? oddio sei Sofia? si mi hai scoperto oddio ciao ciao pensavo in realtà all'inizio che un po' ci cascassi invece e vabbè che stai? bene e tu? bene bene e adesso com'è il tempo da te a me poco tempo fa era nuvolosissimo contemporane proprio si a me adesso sta a te fino a per il piove ah ok no a me invece è appena finito quindi però comunque ti registrando? si sto registrando infatti se vuoi puoi salutare tutti vabbè allora ti saluto un grosso bacio vabbè ciao ciao meno male che ha risposto ragazzi che mi aveva anche mandato un video molto carino dove diceva che voleva tanto essere chiamata e io dicevo che le avrei fatto una sorpresa ed ecco qua va bene adesso farò uno scherzo simpatico dove dico per esempio ciao Maria voglio uscire stasera non lo so vogliamo incontrarci stasera e lei dirà ma io non mi chiamo Maria e io le dirò ma come questo è proprio il numero di Maria che strano e forse avrò sbagliato numero vabbè adesso chiamiamo allora pronto pronto ciao io sto chiamando Maria ma credo che abbia sbagliato numero eh via il bagnato numero chiamato numero no il bagnato numero ah ok va bene va bene e poi Giovanni chiamo io ok non ho capito hai sbagliato eh sì va bene va bene ciao io avevo capito che fosse una femmina veramente non Maria ma Marika diceva di chiamarsi Marika vabbè non lo so ragazzi magari riproviamo a chiamare forse era il fratello non lo so quindi richiamiamo pronto io in realtà stavo cercando Marika no volevo sapere se ci fosse Marika cioè se no Marika è mia figlia ma lei chi è no io sono una youtuber che mi aveva chiesto di chiamarla sofia ok va bene buona giornata cosa ha detto alla fine che ha detto la youtuber va al mare ho capito una cosa del genere ho sentito questo vabbè mamma ma che cosa ha detto va bene ragazzi allora visto che non ha funzionato lo scherzo con Marika allora posso riprovare a fare lo stesso scherzo con Ginevra allora pronto pronto ciao sono Alessia sto cercando Maria ma sei tu sei Sofia si mi hai scoperta ciao ciao mi hai scoperta mi hai scoperta mi hai scoperta ho messo anche il tuo video dove hai scoperto pure te ah si ecco si te lo so bello grazie grazie mille grazie prego vabbè allora ti mando un grossissimo bacio e ti ringrazio ciao ciao ti saluto anche tua cugina ciao ciao che emozione mamma mia ragazzi sono un po' no so emozionata quindi ok ragazzi andiamo avanti questa volta invece visto che diciamo tutti mi conoscono che stanno pure probabilmente aspettando la chiamata potrei cambiare la voce e vabbè non voglio commentare come sarà sarà ridico la perché così non mi riconoscono allora pronto pronto sono la figlia della madre della mia madre che sta che vive a fianco a te che vorrebbe ragazzi mi ha attaccato in faccia che vergogna ho fatto una voce proprio allucinante dovevo essere una bambina facevo finta di non saperne anche parlare però vabbè adesso la richiamo sperando che non mi attacchi di nuovo in faccia pensando che sia uno scherzo pronto 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 Chi parla? Mamma Non ho capito Mamma Aspetta Sei il fratello di Mati? Forse, non lo so Il padre, il fratello di Mati Non ho capito, non ho sentito una voce maschile Oddio Prima avevo fatto uno scherzo Oddio, aspetta Aspetta, mi senti? Ok Allora hai capito chi sono? Sì Ok Prima ho fatto una voce allucinante Infatti all'inizio ho capito Poi il fratello mi ha preso il telefono Però poi all'inizio Non pensavo Ma non è che Oddio Visto che festeggio i 15.000 iscritti Volevo sapere per esempio qual era il video che preferivi che ho fatto sul mio canale Sinceramente tutti Ah grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Eh vabbè Allora mi ha fatto piacere che mi hai risposto Quindi Allora un grosso bacio e un grosso bacio e un grosso abbraccio Ciao Ciao Ed ecco qui ragazzi Spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video Ricordatevi di mettere tantissimi like se vi è piaciuto e di iscrivervi a questo canale Comunque adesso possiamo incominciare con i saluti E di nuovo ragazzi vi ringrazio tantissimo per questi 15.000 iscritti Vi voglio davvero tantissimo bene E comunque ricordatevi di iscrivervi ancora a questo canale se volete E comunque ci vediamo nel prossimo Ciao ciao